Il Marte di Grasso, organizzato dal Comune di Pordenone, ha fatto contente tutte le età con una doppia proposta. Nel pomeriggio di ieri, Piazza 20 Settembre ha ospitato il tradizionale veglioncino dei bambini, che ha compiuto la sua missione, offrire un momento di svago, gioco e divertimento alle famiglie. Giunta la sera, la tradizionale festa del Marte di Grasso di Casa Serena, sempre partecipata con passione degli ospiti e familiari, quest'anno è stata l'insegna del ritmo e del divertimento e della musica con Ermanno Ederica e in esclusiva Max Pianta, l'assessore comunale Vincenzo Romor. Anche quest'anno si è chiuso il Carnevale in Casa Serena, una serata particolare, come ogni anno viene festeggiata con un vero spettacolo, in cui gli attori, che sono gli anziani stessi, partecipano a questo grande veglione. Questa sera c'è stato un grande messaggio anche da parte dei nostri anziani, godiamoci un po', cinque minuti di spensieratezza, di serenità, gioiamo in questi momenti particolari e continuiamo la nostra vita, come sempre.